Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Allora, io ci avevo provato a fare un video carino con i capelli sciolti, non ci sono riuscita, regà, fa troppo caldo e tra l'altro, non so da voi, ma qui da me, ha diluviato letteralmente per tipo due ore e ora fa molto più caldo di prima, come se fosse possibile Non lo so, vabbè, questa è la parentesi del meteo di Chiara! Sì, ormai fa giorno sulla situazione climatica, ma regà, in caldo si crepa Vabbè, comunque ho fatto shopping! Era un po' che non facevo shopping ed è colpa di una di voi perché l'altro giorno, boh, ormai dieci giorni fa forse, una di voi mi ha scritto Chiara, ma lo sai che su Scino c'è la collezione degli orzetti del cuore? Cosa? Cioè, sono andata subito, tipo tempo zero a vedere e mi sono comprata molte delle cose che c'erano In realtà non ce n'erano neanche tantissime, soprattutto la taglia Ma ho fatto l'ordine, ho preso le cose che mi piacevano e ora ne hanno aggiunte altre Quindi io tutti i giorni sto andando lì mettendo roba nel carrello e dicendomi che non devo comprarla perché anche basta comprare le cose con i pupazzi Ma gli orzetti del cuore mi piacciono super tantissimo C'ho pure la maglietta e mi chiedete sempre dove l'ho presa però in realtà quella è una maglietta vecchia e ora su Scino ci sono tutte le cose, tantissime cose e quindi ora andremo a vedere perché guardate la busta Vabbè Allora C'ho davanti un po' di roba In realtà anche cose che non sono orzetti del cuore e comincerei da quelle Allora, un mio amico fa il compleanno e è fissatissimo con i panda e su Scino ho trovato questi Sono calzini panda Cioè Potevo non prenderli lì Tanto non li guarda i video e se li guarda ho questo regalo tanto comunque ho becchi dopo il compleanno perché non ce stai E Cioè guardate Sono panda calzini Dai E questo è un panda calzino dove il panda fa qualcosa tipo così Cioè ci avete presente le sultanze Chi è? De Pukbame sa Boh non so Vabbè comunque Cioè è troppo bello Li devo prendere forza Quindi ho preso due paia di calzini Ho pagati pochissimo I prezzi vi rimetto qua perché adesso non c'ho voglia Andando a prendere il computer e mi sono scordata Comunque è veramente poco Poi in realtà regalavano una spazzola Cioè tipo ogni tanto su Scino succede che se tu spendi più di 59 euro mi sembra T'aggiungono un regalo a scelta Ogni tanto ha scelta loro Ogni tanto ha scelta tua E stavolta potevo scegliere io tra questa e altre due cose che comunque come questa non mi servivano però questa era carina e quindi ho preso una spazzola Sheen che però è tipo super piccola cioè è una spazzolina non è una spazzola però magari per l'estate può essere comoda no in realtà no perché io uso la spazzola detangle teaser quella che non tira i capelli quindi questa ci faccio poco però vabbè era gratis e andava nel carrello eh voglio dire ci si è voluta lanciare nel carrello e poi e poi ho preso questo in realtà non perché mi servisse ma perché costava tipo 3 euro quindi ho detto vabbè io me lo prendo cioè può sempre essere utile un vestito nero in realtà non lo so se mi piace allora mi sta allora mi sta così nel senso che è un po' una tunica però mi piace sta manica secondo me di sera con l'anfibbio ci può sta ma pure del giorno con l'anfibbio solo che se del giorno ne metti l'anfibbio potresti anche sciogliere i piedi non lo so però costava talmente poco tipo veramente tipo costava perché praticamente era in saldo e poi dal saldo c'è dovevi togliere ancora lo sconto e quindi andava a finire tipo a 3 euro e qualcosa e è di Emery Rose che è una linea di Shein che su Shein ci sono un sacco di linee cioè c'è la roba basic di Shein e poi ci sono testelinee e questa è una di quelle che è un po' trasparentino tra l'altro cioè io tipo ve vedo attraverso quindi non lo so non sono proprio convinta ci andrebbe sotto una sottovestina e un anfibbio non lo so non so se mi piace mi fa schifo ma costava 3 euro e quindi intanto ho comprato fatemi sapere secondo voi se è fattibile mettercelo tanto il reso non si può fare perché vi ricordo quando comprate le cose in saldo praticamente sempre non si può fare il reso di quelle cose quindi ve le tenete però per 3 euro cioè insomma alla fine forse me lo metto una volta poi e veniamo agli orzetti del cuore ho preso 4 cose raga adesso ce ne stanno un'infinità tantissime infatti non so se resisterò da fare un altro ordine però intanto ho preso queste 4 cose c'era anche la cover del cellulare però quando la sono andata a ordinar l'avevo messa nel carrello quando sono andata a fare l'ordine era finita e ora ce n'è un'altra però io non lo so perché vorrei cambiare il telefono al mio compleanno quindi boh mi sembra stupido comprare una cover per un mese o due vabbè non lo so se la compro però andate a vedere sul sito di Shein perché ci stanno dei cose fuori da testa degli orsetti del cuore ci stanno i jeans di quei jeans mi sono innamorata solo che i jeans costano 24 euro diciamo al netto di sconti saranno 20 euro che dici non so tanti 20 euro per un paio di jeans no è vero però se poi mi stanno male devo far reso non lo so sono un po' indecisa ma poi dove vado già ho quelli degli unicorni dei jeans e dell'oghitti raga a me mi piacciono queste cose come vedete anche dal mio top di oggi no body di oggi mi piacciono queste cose però poi mi rendo conto che i jeans hanno un sacco di orsetti vabbè comunque ho preso i calzini vedete quanto sono belli allora a parte che sono tipo lilla ma un po' sfumati tipo tie dye per intenderci e di qua c'hanno gli orsetti e su quest'altro calzino c'hanno scritto orsetti del cuore quarantesimo perché è il quarantesimo anno di orsetti del cuore io infatti ero piccola già c'erano cioè sono troppo belli sono un po' sintetici se vogliamo dirla tutta però sono troppo belli cioè non potevano non mi servivano un paio di calzini però sono troppo carini li devo comprare forza e questi costavano tipo 2,50 euro o del genere comunque vabbè se mi ricordo ho scritto qua il prezzo quindi questi sono i calzini poi c'era questo allora le cose costavano poco ma non pochissimo essendo una collezione quindi diciamo che che ne so ci stavano le maglie a 8,12,15 euro no? ok poi ho visto questo sono molto furba ragazzi allora questo costava mi sembra 8 euro o 6 euro in realtà è un pigiama ok e c'ha il pantaloncino con tutti i cuori super carino dei cotone cotone un po' sintetico se vogliamo dirla tutta made in cina orce in per gli orsetti del cuore c'ha scritto il materiale vabbè comunque lo dico io è un cotone un po' sintetico però c'è sta diciamo che c'è sta però sopra sono un genio sopra c'era questo che è il toppino del del pigiama ma se io mi metto sui jeans a vita alta ma mica c'è scritto toppino del pigiama e quindi l'ho preso come per prendere solo il toppino non volevo prendere il pigiama cioè io questo voglio mettere bushi tipo crop top super corto è un po' corto in effetti però se poi mette quei jeans a vita alta quei pantaloni a vita alta è troppo bello dai su dell'orsetto col cuore è bellissimo si sembra un po' una porchetta però alla fine ci sta estate ma senti che caldo che fa ma che me frega ma la trippa ce l'avemo tutti allora questa è l'etichetta fighissima questo shin orsetti del cuore col cuore per i 40 anni e questo era il pigiamino super affare perché io me lo metto come top e quindi due al prezzo di uno cioè pantaloncino lo uso come pigiamino pantaloncino forse non c'è se può uscire perché è proprio dei cotonino dei pigiamino poi ho preso questa che è super bella è super strana in realtà non ho niente fatto così però è troppo carina praticamente è questa maglia bianca molto corta davanti ma lunga come una canotta dietro quindi è una canotta c'è davanti gli orsetti del cuore con l'arcobaleno e gli orsetti sono bianchi non so bene perché risparmia sul colore forse non lo so però è carina molto carina pure questa pantaloni a vita alta rigorosamente a meno che non siate delormega perché se vedono i trippi però secondo me quei jeans a vita alta ci sta bene e infatti infatti mi sembra che questa pure costasse 8 euro una cosa del genere sempre poi sconti sconti bla 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 e insieme a questa potevo farne a meno? certo potevo resistere secondo voi? ma assolutamente no cioè ma no non potevo resistere allora sono stata brava ho resistito i jeans perché effettivamente ho tantissimi paia di jeans nell'armadio presi tutti quasi tutti su Zaful e su Shein e mi trovo benissimo sono super comodi un po' largosi niente ho pure i jeans attillati però non è che mi entrano tanto ultimamente quindi quelli a vita alta super approvati ma ne ho parecchi e in realtà ne ho parecchi anche per la versione di me con 6-8 kg in meno che so quelli che avevo prima e adesso non mi entrano però non ho pantaloncini o meglio quelli che avevo prima non mi entrano non mi entreranno mai più li ho cestinati cioè adesso quando ho fatto il cambio dell'armadio non li ho manco messi da parte nella speranza che mi potessero rientrare perché siamo sinceri sì posso perdere 3-4-5 kg al massimo ritorno ma il mio fisico è cambiato cioè i pantaloncini quando avevo 20 anni non mi entrano manco 25 non mi entrano non mi entreranno mai più va bene l'ho accettato infatti quest'anno al cambio di stagione ho buttato tutto cioè ho regalato tutto quindi in realtà ho un solo paio di pantaloncini corti di jeans e sono di Barbie tra l'altro una collezione di due anni fa mi sembra forse anche di più di Zuiki allora li amo tantissimo però c'ho solo quelli e sono pantaloncino jeans normale c'ho scritto Barbie sulla tasca ma io ho visto questi e ho pensato i jeans non li compro perché effettivamente non mi servono un paio di jeans però un paio di pantaloncini corti mi possono essere utili d'estate fa caldo non che io li porti così spesso però poi ho visto questi e non ho saputo resistere allora hanno l'orsetto su una coscia e dietro sulla tasca il cuoricino non sono pantaloncini di jeans normali perché sono quei pantaloncini di jeans fatti così come si spiega mi sa che si chiamano a farfalla però non ci metterei la mano sul fuoco però sono a vita alta e sotto sono larghi sono super belli te devi muove poco perché qui dietro sono larghi te si vedono le chiappe però se te muovi poco sono troppo belli cioè non sono troppo corti non andrei mai in giro con le chiappe di fuori chiaramente ho 37 anni signori e signori ma visto che non sono troppo corti c'è posta e sono veramente fighissimi stanno pure bene addosso solo che la mia missione a meno nella mia testa sarebbe perdere qualche chilo ho paura che poi mi vanno larghi però sinceramente adesso non me li potrei mettere una S ho preso tutte M queste cose una S non me la potrei mettere quindi realisticamente se dovessi veramente riuscire a perdere qualche chilo ce faccio le cose dietro i cucio dietro e mi metto lo stesso oppure ci metto una cinta ma tanto secondo voi ma io riesco a perdere 5 kg prima prima della fine dell'estate che mi posso mettere ciao Iara che bello che c'è credo e niente questi sono i miei pantaloncini del cuore con gli orzetti del cuore sono troppo belli ora devo solo andare in vacanza per mettermi sta roba e allora sì perché chiaramente non posso andare a lavorare con queste cose quindi sarebbe bello andare in vacanza noto ora che qui sotto sono in realtà solo tagliati cioè ho tutte le frangine del taglio a vivo del pantaloncino non sono non c'hanno l'orlo insomma se piacevano con l'orlo comunque vi invito ripeto a andare a vedere le altre cose perché tra l'altro ogni giorno aggiungono qualcosa di sta collezione degli orzetti del cuore ma io l'amo cioè è favolosa tra l'altro quando ordinate su Shein ricordatevi di ficcarci un codice sconto se non lo trovate guardate un video di youtube delle youtuber un po' più importanti con scritto Shein ci stanno dei codici 15% senza minimo di spesa a me non me lo vogliono dare perché dicono che non c'ho ancora 10.000 iscritti quindi se stai guardando questo video e mi vuoi dare una mano e te la vuoi dare pure te perché così almeno io poi c'ho il codice sconto per voi potete condividere il video con amiche o chiedere amiche di iscrivervi al canale non lo so famo qualcosa per arrivare a sti 10.000 non ho idea inventatevi qualcosa così almeno Shein forse ci calcola che poi forse che ne è detto che ci calcola però se ci dovesse calcolare Shein e noi siamo qua ma tanta roba ma compro da sola e quindi andate a vedere la collezione di Shein degli orzetti del cuore se vi piacciono gli orzetti del cuore so che a molti di voi piacciono gli orzetti del cuore perché quando mi vedete la maglietta mi chiedete sempre dove l'hai presa e quella è vecchia quindi non la trovate più quindi da questo video dove vi mostro la collezione Shein orzetti del cuore e qualche extra che ci travagnate è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao